Il maltempo è alle spalle e i gestori delle spiagge sono al lavoro in vista dell'estate. L'estate ormai le porte e come procedono i lavori? Allora, siamo messi abbastanza bene e abbiamo quasi completato la disposizione della spiaggia, degli ombrelloni, dei lettini. Di danni non ne abbiamo avuti, abbiamo avuto molta sporcizia che ci ha portato al mare e adesso stiamo pulendo e siamo quasi pronti per iniziare. Stiamo lavorando lacrimente, stiamo correndo perché siamo rimasti un po' indietro a causa del tempo. Molta pioggia, mareggiate, vento, tempo veramente cattivo. Abbiamo avuto l'acqua fino alle cabine, quindi capisci che più che altro non tanto danni, almeno per quanto riguarda me, ma di tanti dispetti, sporcizia, manutenzione da eseguire. Comunque siamo pronti, siamo forti più di prima, secondo me. L'estate ormai alle porte e come procedono i vostri lavori? Siamo in ritardo di 10 giorni, con il maltempo che c'è stato, con l'alluvione che ha creato problemi con la spiaggia, con tutta la roba dei fiumi, quindi piante, rami, alberi che sono venuti in terra. Abbiamo dovuto lavorare per caricare quelli. Io sono nella mia zona di 41 metri e ho caricato un camion pieno, a mano a carcere. La multiservizia mi ha caricato un camion pieno, quindi abbiamo dovuto fare così. Poi la pioggia, non abbiamo potuto fare niente. Nonostante qualche problema di troppo, tra i gestori delle spiagge c'è cauto ottimismo per l'attività lavorativa dei prossimi mesi. Qual è la previsione in vista dell'estate? Ma io penso che dopo queste mattate il mare si rimetta, il tempo comunque si fa sempre fare la stagione. Spero comunque, ecco, solo che il mare ci dia un po' di pace, almeno questi tre mesi, e ci faccia vivere e lavorare serenamente. Anche in previsione purtroppo di questa direttiva a Bolkestani che ce l'abbiamo sulla schiena. E questa purtroppo però non è una grossa problematica, ancora più dell'erosione. Speriamo e pensiamo di fare una buona stagione come quella dell'anno scorso. Speriamo di poter ripetere la stagione dell'anno scorso, che il bel tempo possa arrivare e si possa mantenere da giugno in avanti. Io spero che vada bene e come mi diceva mia madre ci vediamo a settembre, vi dico come è andata. Dopo il maltempo è necessaria una pulizia profonda per eliminare i detriti, ma il problema principale oggi resta l'erosione delle spiagge. L'erosione è importante sì, sono le scogliere ma il lavoro lo fanno molto lentamente, delle volte rovinano anche con certe correnti. Bisognerebbe investire di più per farlo, a parte creare un progetto definitivo, così bisogna investire come minimo 70-80 mila euro in più per farlo. E poi farlo prima, non arrivare a finestra, a parte adesso che abbiamo avuto dieci giorni, che quello non è colpa di nessuno, è finito lì. Però dovrebbe essere una cosa prioritaria per il comune di Pesaro, che siamo una cittadina turistica, tanto se vengono a Pesaro vengono per il mare, non solo per il casco, perché anche qualcos'altro. Quindi gli albergatori ci chiedono il posto, noi cerchiamo di fare il possibile, ma se non c'è dove piantare ombrelloni cosa facciamo? L'unico problema è che tutto questo ci ha creato tantissima erosione, nel caso mio siamo sui 12-15 metri di meno di arenile, il che vuol dire meno ombrelloni, meno disponibilità, più problemi con i rapporti degli albergatori, quindi è un problema da risolvere, ormai annoso questo. C'è bisogno anche di un sostegno? Assolutamente, proprio quest'anno se non ho capito male c'erano meno fondi per l'apporto di sabbia e proprio quest'anno che abbiamo più bisogno è l'esatto contrario. Speriamo che un attimino il comune metta una mano sul cuore, ci aiuti un'altra volta come può. Grazie a tutti.